Sono pacchetti turistici rivolti al cicloturista e al turista in genere che vuole affrontare una vacanza alternativa tramite l'utilizzo della bicicletta e vedere un Val d'Arno ad una velocità più rallentata. Arrivano i pacchetti turistici legati al progetto Val d'Arno Bike Road dedicati a tutti gli appassionati delle due ruote. Continua infatti a crescere il progetto legato al cicloturismo nella vallata dall'installazione dei cartelli segnaletici che rendono ben individuabili 240 km di itinerari, adesso si passa alla creazione di veri e propri pacchetti turistici. Si parte dalle balze, si parte dalla Sette Ponti, si entra nell'area mineraria perché il progetto Val d'Arno Bike Road è il primo progetto che può entrare con una calendarizzazione fatta insieme a Enel, può entrare dentro l'area mineraria, quindi un posto straordinario, unico in Italia. Per noi il turismo sostenibile è sempre più segno di apprezzamento di quelle che sono le eccellenze che sono presenti sul territorio, nel caso specifico ovviamente abbiamo un patrimonio costituito dai nostri impianti che sono presenti nell'area del Val d'Arno, nella fattispecie l'area mineraria di Santa Barbara e in più ci sono i bacini della penna e di levane che con questo nuovo pacchetto di offerte avranno modo i turistici a poter apprezzare. Un'offerta variegata per tutte le tasche, il requisito base è ovviamente quello di amare la bicicletta e la campagna toscana. Sono tre forme diverse, sono il pacchetto giornaliero, quindi una forma di pacchetto l'inclusive, cioè il turista arriva e ha già tutto pronto per un soggiorno e può andare dai tre ai sette giorni. Un pacchetto rivolto a chi vuole soltanto una struttura ed un aiuto per visitare il territorio e poi sarà libero di navigarlo totalmente, pedalarlo totalmente da solo, ecco in sicurezza e tranquillità. Un prodotto dunque indubbiamente all'avanguardia che mira adesso a sbarcare sul mercato nazionale ed estero. Promuovere tutto ciò che può avere a che fare con le attività legate al terziario e al commercio di cui questa nuova tendenza dello vivere slow trova nella bicicletta una grande risorsa. Grazie.